Buongiorno e benvenuti in quest'ultimo Vlogmas e buon Natale a tutti mettilo subito a posto guardate Babbo Natale ha lasciato un sacco di regali sul divano e poi qui invece ci sono quelli di Maurizio e lì invece quelli di Babbo Natale ma sono certi che non hanno la scritta? è perché magari chi lo sa allora dai che abbiamo tutti no adesso non inizi da niente perché? perché? adesso un attimo adesso ci prepariamo e poi guardate ha anche bevuto tutta la cioccolata che gli aveva preparato Gabriele e ha mangiato tutti i biscotti che gli aveva lasciato Gabriele mamma mia Olivia già nella sua postazione vicino alla stufa quella non gliela leva nel fumo benissimo allora adesso prepariamo la postazione e iniziamo ad aprire questi regali cominciamo a scartare i regali Sabrina ha deciso che lei è Babbo Natale e quindi li sto a vedere anche qua non c'è scritto per tutti va bene per tutti lo aprono mano alle giocche però aspettate allora oh mio dio incominciare via vai che cosa? che cosa? che cosa? che cosa? che cosa già? ma non avisa che ce l'aveva anche Sabrina dovete attaccarci uno sticker uno delle due ci attacca uno sticker e io ci faccio una mano anzi che cosa è? mamma vai a prima o a quella di Sara? prima o a cani? nel mio capello e a qua anche se ho il mio capello e la cani? è il mio capello di porno è il mio capello di porno è il mio capello di porno non so aprile Anche se va a parte tua Non è che vi deve dire cos'è Vabbè è un caos È un joystick Ma per che cosa? Non ce l'abbiamo Non ce l'abbiamo montata Cosa c'entra? Cosa ci mancava per giocare con la Wii? Quelli Senza quelli non ci faceva giocare A tre quarti dei giochi che abbiamo Occhio No, non può Senza Sabrina Cos'è? Quello lì non è per Sabrina Quello Io stai scattando Mamma, io stai scattando Posso aprirlo? Mamma, possiamo aprirlo Ce l'ha fatta questa? Ecco, forza Fin, dai Aprite il regalino di sana Facchi trucco! Trucco! Star Wars Stai guardando La tua, bella Fa vedere? Ma perché è? Sì, fa bella No, non è la stessa cosa No, non è la stessa smalto Bene Ciao E beh, non è che facerai tutta la vita così, eh? Guarda, guarda, guarda Quello è tuo Adesso, non sai perché la metti subito? Dovete far vedere, eh? Fateci vedere cosa avete Vai, via, strappa tutto Quello di sana ha trovato questa Non ci ho visto, non è tanto bene E poi ho trovato queste tre cose Io invece ho trovato una droga Io ho trovato una Io ho detto Distina, un dente, un piede Così, eh? Vabbè, lo fa la lei, vabbè, lo fa la mia Dai, strappa via, ti ho fatto tanto Ma non tanto Mi ha fatto tanto Mi ha fatto tanto Mi ha fatto tanto Non è passato il cane Non è passato il cane Non è passato il cane Ma è che invece io ho trovato Tu, no? Più indietro Come me? Più sopra la testa di Pia Ok Guarda, dietro, guarda dietro Poi ho trovato Un set di penarelli per colorare Poi ho trovato l'ho fatto Sì Sì Buoni Anche questo qua Da mettere con il mio figlio Mh mh E un tocchino Oh, ah Sei sicura che ha un profumo? Sì Ok Buona reale, un fiore Guardate la cover Guardate la cover Mh mh Ok Allora, dentro questa borsa Adesso ci accaniamo tutta la carta dei regali Vedete Perché se no poi gli vengono L'anno prossimo i regali Anche proprio naturali Facciati con la carta del genale Perché qua c'è uno stretto No, facciati con la carta dei genitori Allora, adesso ci sono i regali dalla zia Luisa Di Pia Oh mamma, adesso Eh, ma perché glielo metti al contrario? Di chi è? Di Pia Ma qua c'è nata come la bambina storia Paolo di nuovo Questo? Di chi è? Eh? Leggi Eh eh È mio È mio È mio Brava Pia Certa Ma come fa? Perché, scusami, ti sento sister Di tutti Eh beh, scusami da questo Scusami capito C'è mamma Natale che cazzo No, no apri 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 se tu la vuoi se tu la vuoi una di noi perché me l'ha detto perché lo so perché su tutto la scopa mi puoi aiutare a passare si per i bambini lui ha regalato skylander per la wii ci son già tolla skylander ma nanda ti vedi la cucina mi fai giubato 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 ma perchè abbiamo già finito allora allora è quella di luisa e quella di sara ancora ma prima devo finire questo allora io li apri quindi manu qui c'è scritto o non c'è scritto è di sabrina sicuro si sabrina sei sicuro che è sabrina qui non c'è scritto capì se non c'è scritto e vabbè capì Come fa stessa? Ma che è? Allora vedrai che puoi campurlo! Guarda! Sebbiamo passare! Non si chiama passare! Guardate Maria Pia! Pia! Guarda! Tieni! Guarda! Guarda, hai sceglio o la prima! Guarda! Questo lo hai detto tantissimo Dai! Bello! E lo puoi rapire questi! Dai! dai aprite oh nooo è perché io questo? perchè? perchè è quello? mamma guarda qui secondo me è tuo MOSC i a noi oh noi vicio che belle dovrebbe essere la forma di sessone ma dove sono? allora questo ah mamma è mia ok è mia ok ok posso aprire? mamma mamma posso aprire? è mia aspetta guardate in acidale eh ma quella molla è come la mia aspetta Levi lui ha una cosa su quell'ora efforts su mezzo dei mezzo davvero non puoi toccare e mette non si vede non si vede anche Zara invece Pia tirate su quello che ha trovato Pia ha trovato questo? è impossibile da dire poi ha trovato questo e lo ha trovato ancora la Pia anche l'altro anche l'altro anche l'altro ma quei due lì sono uno di Caprina e uno di Zara prendeteli guarda c'è ancora uno però potete guardare sopra Magari c'è un biglietto che cos'è? un crullino un crullino stiamo frullando a mano un crullino qua c'è? mamma viva 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 Zara possiamo vederlo Zara? ma quanta carta? ah io ce li sto massando e io come tu lo dirai? ma ma perchè non va sto scrivendo? perchè il regalo da lei e papà per Manuel e Giorgia questo qui invece è il regalo che facciamo io e Maurizio e Manuel e Giorgia Sono uguali, ve ne faccio vedere uno Ok, e adesso glielo consegno Allora, mi raccomando, fate un po' di filare E ha letto subito, non ha fatto pinta di scartare Io voglio mettere le luci Ora lo puoi prendere No, 30,00 Guarda, eh, una bella Te li impegni su che si tu vuoi Cosa? Mamma, lo sento 15,1 15,1 cos'è? Primo di gennaio Esistono gli anni da 15 mesi Mamma, lo stai che si può riempire Perché c'è il buco Mamma, dai il latte a Manuel Ancora, ancora, ancora Eh, voglio anch'io il latte Adesso apri io i miei regali Prima quello che mi ha fatto Luisa Guardate che bella la carta Ha usato questa qui di Elsa e Anna Con scritto Sisters Guarda, mamma, una faccinoccia Vediamo cosa c'è dentro Forse staranno per i giochi Io adesso voglio Aia, aia, aia Aia Con calma Sono tazzine C'è anche quella nera C'è anche quella nera Via C'è anche quella rossa Oh, ma che bella Col portatazzine Oh, cado Cerco di non rompere nera Via C'è anche quella nera Sabina, io capisco No, non è nera, Giorgia È viola Va bene lo stesso Guardate Vieni Lo apriamo Sono bellissime Grazie, sorella Sono stupende Guarda La caletta E invece guarda Anche quando sono Alla lavagna Adesso Guardo Apro invece Quello di Sara Sara Momento Se lo monto Io ve lo dai Meno male Regalo è giocatissimo Ho visto che tazzine Non ne abbiamo Ma anche il bicchiere Io non lo devi dare Per favore Non lo dai Adesso invece Apro quello di Sara Sì Sì Io ho aperto Però Dobbiamo toccare un pezzo Con il cazzo vite Wow È un profumatore Adesso lo apri Sì Ma c'è anche due Vediamo com'è Cosa? La sciglia Ah, ecco Guardate Qui ci sono i bastoncini E lì c'è il barattolo La bottiglietta Dove metterci lì dentro Così Bellissimo Grazie Sara È bellissimo E anche il profumo È buonissimo Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 questi giorni. e... Grazie a tutti. e a tutti. e... e...